Questi recinti fatti con dei giunchi intrecciati come questi abiti qua che all'epoca erano l'ultima moda a Milano, questi broccati ricchissimi, gialli e oro, oro e rossi scusate, che l'industria serica lombarda all'epoca iniziava a produrre e era molto richiesta sul mercato. Mentre, parlando appunto della... vediamo se c'è qualche altra immagine di Natività, questi colori sono originari, non sono stati restaurati, ma non sono stati ripinti, qui abbiamo altri dipinti più o meno che possono essere accostati in qualche maniera a questo ambito culturale, questi qui sono di... ah, della stessa bottega che secondo me è assimilabile a questi qui, quindi qua che vediamo adesso, vedete anche questo qui è un dipinto che sta novara, ecco questo è interessante perché è un dipinto ancora nelle forme della Madonna, tardo-gotico, molto vicino se vogliamo a questo quadro, come vi immaginate adesso, la somiglianza, la composizione è molto vicina.